e siamo a pavullo e qui ci sono i nostri delta eccoli qua ciao naldo ciao ci sono per volare allora per ringraziarvi per il suo lavoro che stanno facendo in questi due giorni ciao 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 questa è la velona finale prima dell'ultima manovra che inizierà tra qualche istante con il leader che chiamerà 4 fuori ciao